A Bagnoli, periferia industriale, tra il fumo e il rumore dell'acciaieria. Sono andato in via nei campi fengreci del Quanta Cinque, un numero che mi piace, che suona bene, e che mi ha portato sempre a fortuna. E ho portato a fortuna anche a tutti i miei amici del cortile, che mi seguono da sempre, perché insieme ci divertiamo. In fondo ho scritto nei numeri, nel destino, perché a Napoli Cinquantacinque è la musica. A Diciottane sono immigrato a Milano, così come fanno tutti quelli che sono nati al sud. Anche i bluesmen nati nel delta del Mississippi andavano verso noi, Chicago, New York. E io a Milano ci sono andato perché volevo fare una musica, e le case discografiche erano tutte lì. Così ho cominciato a pazzicare i miei corridoi con le anticamere, cercando almeno di accappararmi le simpatie delle segretari dei padrini, dei padroni dell'industria del disco. È stata un'esperienza dura ma divertente. Nel resto era questa la mia vocazione. Poi un bel giorno, quando meno mi ero aspettato, quando ormai avevo pensato di lasciar perdere, è arrivata la grande occasione. Nel senso che il capo della lobby che conta detto sì, e ha deciso che le mie canzonette potevano essere utili alla causa. E io confesso che ne ho approfittato subito, anche perché dopo tanti anni mi gavette erano le comodo per farmi ascoltare. Nel resto l'ho detto, lo ripeto, era il città dei numeri, né destino. Nel resto l'ho detto, è andato quando fa male dell'astica